Abbiamo nuovi ospiti, vi abbiamo annunciati, parleremo anche oltre che di calcio del Val di Chiana Talent, la finalissima e qui ci sono due dei giurati e hanno fatto un grande lavoro. Li saluto subito, quindi Lucia Nuzzo, benvenuta e bentornata. Ciao Fabio, è un piacere essere qui. Ormai ci sto prendendo quasi l'abitudine, mi dovrai fare un po' da postazione per me. Questo sgabello è tuo, ci puoi rimanere quanto vuoi. E poi vicino a te Walter Coni, ciao. Sì, oramai sono di casa, quindi ci fa molto piacere. Ci sto bene. Ci stai bene, sì. Ci sto prendendo gusto. Allora, voi eravate in giuria in questa finalissima del Talent, non da soli ma insieme ovviamente a tanti colleghi, ma siete stati fantastici. Perché a parte, diciamo, dare i giudizi, e io qui ho tutti i tabellini, però tanto abbiamo deciso che dal quarto al decimo sono tutti ex equo, i nostri cantanti, però volendo si sa tutto. Ma a parte, insomma, dare questi giudizi così spietati, diciamo per quanto riguarda il voto, perché purtroppo il voto un po' spietato lo è, in realtà avete dato tantissimi consigli a questi ragazzi per aiutarli nella crescita. Siete stati davvero generosi, devo dire. Lucia. Beh, Savoni, insomma, noi non abbiamo partecipato per dare addosso a ragazzi giovani o comunque a persone che si affacciano adesso a questa realtà musicale. C'erano persone non solo giovanissime, no? Perché mi sembra che andassero dai 15 ai 60 over. Eh sì, abbiamo avuto anche non solo giovani, certo. Quindi, ecco, lo spirito era dare un aiuto, non un giudizio. Un consiglio un po' più pratico. Sicuramente. Ok. Allora, vediamo un po' se Moriano Michele riesce a sistemarci la telecamera in maniera tale che io adesso mi concentro un attimino appunto con Lucia e con Walter. Nel frattempo, però, prima vi volevo far vedere, sempre se sia possibile dalla regia, perché non so se lo abbiamo fatto in tempo a scaricarlo, un piccolissimo passaggio della Santa Messa che c'è stata questa mattina, della Messa, insomma, che c'è stata questa mattina a Sinalunga. Voi direte che ci incastra. Beh, insomma, è un momento importante per il nostro territorio, per la diocesi che ci coinvolge, anche perché appunto c'erano le telecamere di Mamma Rai. Quindi in diretta su Rai 1, abbiamo potuto assistere in diretta quindi mondiale alla Messa celebrata dalla Chiesa San Martino di Sinalunga con il Sua Eccellenza, il Vescovo Stefano Manetti, che ha potuto così portare la sua omelia, le sue parole su tutto quello che è il territorio non soltanto locale. ha parlato a lungo anche del ruolo dei sacerdoti e delle suore, di coloro che sono, diciamo, tutti i giorni costantemente vicino a chi ha più bisogno, il ruolo importante di accompagnare e superare questo, superare ovviamente anche momenti non facili. Quindi la giornata mondiale della vita è quella di oggi, l'abbiamo sentita anche nelle parole di Pava Francesco, ma insomma ci fa piacere sottolineare per la comunità della Valdichiana da Sinalunga questo importante evento. Oltre 20 tecnici di Mammarà e l'esterna di Napoli, altro che te l'idea, voglio dire 20 tecnici per un prodotto come è giusto che sia, di grande impatto, impatto emotivo, impatto comunicativo. Quindi un'opportunità perché sappiamo quanto sia oramai radicato l'insegnamento anche della Chiesa tramite il territorio, ma anche tramite i vari mezzi di comunicazione. E tornare in mezzo alla gente, in mezzo ai fedeli, abbiamo compreso dalle parole, è insomma la mission più significativa per continuare quella che è l'opera di portare ovviamente la parola di Dio in questo caso in mezzo a tutti. Quindi un messaggio molto semplice, un messaggio molto però di impatto, di impatto forte. Complimenti al lavoro svolto dalla Diocesi anche per aver avuto l'opportunità di avere una così importante visibilità. Grazie regia. Allora, ora non vi chiedo se siete credenti, non vi preoccupate, non andiamo sul privato, però insomma per Sinalunga, penso, e per i Sinalunghesi, che la Chiesa era pienissima, gremita, penso sia stato un bel momento. Penso un po' di sì. Insomma, è un momento di crescita se non altro. Ma noi torniamo a Bomba al Talent, eccolo qua! Allora, voi Walter avete dato, abbiamo detto, questi consigli ai ragazzi. Principalmente sono consigli sia tecnici ma anche, insomma, alla fine di... Anche da pubblico, nel senso che comunque sia è quello che ci arrivava, era quello che arrivava alla gente e poi che arriverà a casa. Insomma, e noi lì abbiamo visto le cose che ci sembravano fatte bene e le altre da correggere. Però in realtà devo dire che tutti hanno avuto una loro padronanza scenica, hanno tenuto bene il palco, tranne qualche... Defaianza, insomma, che ci vuole stare. Defaianza, insomma, che ci vuole stare. Eccovi, guarda là, guarda là in giuria, eccovi qua. Allora, le ricordiamo subito i giurati della giuria del canto. Il presidente di giuria, Roberto Machetti, era... Intanto vediamo l'inquadratura appunto di Lucia Anuzio, in qualità di cantante, la sua anima soul, front woman anzi. E adesso parleremo anche delle sue grandi iniziative. Vicino a te c'era Igor Abbas, insomma, grande, tantissima roba, musicista, insegnante di musica, di chitarra, di chiusi. E poi abbiamo sempre nella giuria, che adesso forse la regione ci farà vedere, il presidente appunto Roberto Machetti. E ancora Roberto Machetti, che è sindaco del comune di Trequandam, è presidente dell'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, di sede, dieci comuni. E poi c'era Walter Coni, che anche lui è un musicista affermato, cantautore. E Annesa Petruschi, insomma, guardatela là, splendida anche lei, cantante, ma anche showgirl direi, perché in realtà non si ferma soltanto alla canzone, ma sa creare davvero grandi momenti. E poi c'era, eh sì, c'era anche lui, Daniele Canji, che saluto, perché insieme a Walter Coni erano lì, che insomma cercavano di comunicare. Daniele Canji, che ha saputo anche dare dei consigli anche lui pratici su come si deve stare sul palco, sull'empatia. E i cantanti in gara erano Sara Luconi, Giorgia Malintacchi, Asia Bircolotti e Pierangelo Menci, che sono poi coloro che hanno vinto il Valdichiana Talent, poi lo ricorderemo. Maria Bankov Mirceva, Fabiana Carta, Francesco Munao, Kim Roggi, Laura Moufort, Martina Toppi e poi la band appunto di Weppie Smile. Quindi una finalissima tra giovani, giovanissimi e meno giovani, che però ha portato ovviamente un sound fantastico. Allora, il momento in cui insomma vi siete più divertiti, quale lo avete giudicato? Durante le canzoni o durante quel momento che non so se la regia lo trova, finale con quei pazzi di striscia alla chiarina? Ah beh, devo dire che è stato un divertimento dall'inizio alla fine, perché poi mi avete messo vicino Daniele e quindi era un teatro. Ti ha un po' coinvolto, eh? Ti ha un po' coinvolto. Era difficile rimanere seri. Eccoli! Eccoli quei pazzi dove si è aggiunto anche il cugino Nanni di Livorno. Quindi c'era anche lui che tra un po' arriverà in studio. Io so che oggi era alle piscine Termarieteia, in relax, insieme alla contadina della Chiana. Quindi hanno preso una giornata di reposo, hanno detto prima. Ci hanno mangiato con questi pazzi che altro che Sanremo, i carciofi, il cavolo nero, l'aglione, prodotti puri della Val di Chiana. È stata una gag molto carina, molto carina. Tra l'altro Giovanni ha una bellissima voce, ha una potenza vocale incredibile. Ma ci ha sorpreso, ci ha sorpreso, nel senso che non conoscevamo questo aspetto di questo, diciamo, talento virtuoso che poi conoscerete anche voi, davvero poliedrico, ma ci ha conquistato con questa canzone. Io ero lì preoccupata perché era il microfono che dava dei problemi e invece l'ha preso in mano lui e non ha dato nessun problema. Ce l'aveva solo con me, mi sa di sì, mi sa di sì. Ti era simpatico al microfono. Senti Lucia, ma parliamo del tuo progetto, poi torneremo sulla Val di Chiana anche più tardi, Val di Chiana Talent con altri ospiti, perché tu stai portando avanti, lo abbiamo accennato l'altra volta, eccolo no? Lo vogliamo sentire un pezzettino? Sì, va bene. No, noi cercavamo di rovinarvi, ovviamente, siamo cattivi fino in fondo. Che vuol dire, dirti accanto prima di dormire, mentre cammino a piedi nudi, dentro l'anima mi manchi e vorrei avere più... Bello, bello, regia. Poi torniamo, che tanto sarà qui con noi, lo ascolteremo anche magari dal vivo, chissà. Intanto, però, attenzione, per andare da Lucia, perché in eccellenza dobbiamo assolutamente fare il punto. Cambia il risultato anche della gara di Sinalunga. Allora, andiamo a vedere il quadro generale, perché era passato la Sinalunghese, grazie al gol di Pluchino, sempre lui al sessantesimo, in vantaggio, 1-0. Ma la gioia è durata solo 5 minuti, perché Ficarra ha siglato il gol al sessantacinquesimo per il signa del pareggio. 1-1, quindi tutto da riscrivere ancora per questa partita. Vantaggio dell'Antella al sessantesimo, poi c'è il raddoppio del San Gimignano, il pareggio tra Poggi Bonzi e Terra Nuova per 1-1, il vantaggio del Badesse. Con Marabesse siamo andati sul 2-1 a Borgo San Lorenzo. In vantaggio anche la lastrigiana ad Anghiari, è cambiato poi il ridultato, che qui non so alla fine quanto finirà. 8 gol sono stati messi a segno tra Zenit, Audax e Valdana, è sempre però parità. Ecco, questo dovevamo assolutamente darvi questo aggiornamento. E allora a questo punto vi porto anche nel campionato di promozione toscana, a girone B, dove c'è sempre lo 0-0 tra la Castiglionese e il Lucignano. Si è sbloccato il risultato di Mazzola, ma questo già dai primissimi minuti. È in vantaggio l'asta contro la Castelnuovese, in vantaggio la Chiantigiana Arrufina, mentre è chiusi ancora sullo 0-0. Mantiene il 2-0 il Cortona e mantiene l'1-0 anche il Sanquirico e la formazione di Comano. Questa è la situazione al momento. Intanto vi saluta Daniele Cangi. Ciao Daniele! Arrivano i suoi messaggini e quindi insomma ci fa piacere. Ovviamente vi saluta anche a voi della Giulia, indubbiamente. Allora, intanto mi scrive anche Stefano Reali. Il primo tempo si chiude in parità con una ghiota occasione per quanto riguarda l'Orbetello. E quindi questo è il calcio giovanile. Benissimo e ci fa piacere. Dunque il progetto, attenzione, attenzione, il progetto di Lucia Nuzzo. Perché tu sei una cantante, sei un'anima soul. Esagera, eh. E' partita da sola, è partita con un gruppo, è tornata sola, torna con il gruppo. Insomma, lei può essere, si adatta ovunque, ma ha trovato la sua forza identità più forte nel soul. Cioè, cosa vorresti fare? Allora, Sabri, io vorrei unire le mie due anime, no? Come dicevo l'altra volta, anche qui ospite da voi. Io ho lavorato tantissimi anni nel sociale, quindi come... educazione.